I modelli previsionali ci dicono questo, cioè che adesso siamo in discesa e quando eravamo in salita ci dicevano che eravamo in salita. Ci aspettiamo una fase di stasi, di arresto, cioè non ci aspettiamo uno svuotamento totale. La curva scende ancora ma la parola d'ordine resta una e una sola, prudenza. Anche perché, ribadisce il governatore Luca Zaia, esiste un momento ben preciso prima del quale è impossibile tirare le somme. Abbiamo una deadline per fare un bilancio che è fine febbraio. Ci dirà anche quale sarà lo stato dell'arte rispetto alle nuove infezioni. Sarà innegabile che avremo delle nuove infezioni. La vera sfida è capire se saranno piccoli cluster, contenuti, diciamo, fra virgolette, brutto dire, ordinarie amministrazioni ormai rispetto a quello che abbiamo vissuto o se ci sarà una nuova tendenza a riprendere la curva. Se riprendiamo la curva, i parametri stabiliti oggi dall'Istituto Superiore della Sanità ci sparano direttamente in arancione e rosso.